Lei non aveva alcuna autorità, nessuna. Città del Messico, che cosa ci faceva lì? Avevo delle ferie arretrate. Che cosa succede, James? Dicono che sei finito. Tu che ne pensi? Secondo me hai appena cominciato. Magnifica, vero? Da zero a cento in tre secondi e due, con qualche trucchetto nella manica. Mi serve un'ultima cosa. Che cosa hai in mente? Fammi scomparire. Mi dica dov'è. Lui è ovunque. Se lei va lì, passa in un mondo dove non esiste pietà. Lei protegge qualcuno. Sta lontano da me! Perché dovrei fidarmi di te? Perché sono la tua migliore garanzia di restare viva. Questa organizzazione... Sai come si chiama? Si chiama Spectre. E sai chi è che li collega tutti? Io. Benvenuto, James. Mi hai incrociato moltissime volte senza mai vedermi. Perché ci hai messo tanto? È davvero questo che vuoi? Vivere nell'ombra? Andare a caccia? Essere cacciato? Sempre da solo? Non mi fermo a pensarci. Sono stato io, James. L'artefice delle tue sofferenze.